Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Oggi è 18 dicembre, vedete, 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 questo è via Andrea. Allora, innanzitutto voglio fare i complimenti al mio compaisano, orgoglioso di esserlo, Antonio D'Aloisso, il grande pasticciere che è sciuto in vanilla, l'orgoglio di Barletta l'ha portato in tutta l'Italia, che c'è una soddisfazione immensa, grande Antonio, grande, 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 complimentoni da me e da tutto Barletta Avest. Oggi è 18, oggi è 18, è giovedì, è una giornata un po' freschetta, però stiamo a dicembre, voglio, 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 voglio salutare Anna e Italia, le mie due colleghe, buona giornata anche a voi, Dove stai? Un com'è la luce, ferrambo, siamo qui, lo stiamo a dicembre, ciao, Ettore, salutare Anna e Oscar, mi spazio dare. A Foggia si va, ma si va con, con, solo con la tessera del tifoso, e la tessera deve essere plastificata, e niente, dai. Dai, voglio essere oggi, voglio essere breve, vi auguro il meglio che c'è, come la tessera del tessera del tessera, si ponte lo buono, si ponte le tessera, e le tessera del tessera del tessera del tessera del tessera del tessera, e questa è la scuola fra i gianni, quando ho andato a questa scuola. Con questo vi saluto, vi auguro un buon giovedì, auguri a tutti, qui vi festeggiano qualsiasi ricorrenza, un saluto anche Donato Scarrattino di Radiogramma, ciao Donato, da Barlittavia a Estale Lurus, ciao!